Ciao a tutti ragazzi, scusate i miei capelli ma mi sono appena svegliata, la mia occhia è compensata e devo fare il video perchè la tassi non lo faccio E oggi volevo fare il mio Non puoi abbaiare, sto facendo un video, sta attorno un po' che zitto Oggi volevo fare l'aul scolastico E cos'è quest'aul scolastico? In pratica ho comprato queste cose per la scuola e ve le farò vedere Però devo fare via anche un secondo video perchè il quaderno ancora ne ho comprati Solo che oggi non avevo proprio strunze Ma avevo proprio il tempo di fare, cioè non avevo proprio un'idea su cosa fare Ma ho deciso di fare l'aul scolastico iniziale E tra l'altro ho già messo tutto dentro lo zaino Questo è lo zaino nuovo che mi ha preso mia mamma e non l'ho poco scelto, io volevo quello normale Ho ovviamente sempre tutto di violetta Mastuccio Mastuccio Aia Lo sopra così Poi ci sono anche le matite Poi c'è il diario Sempre di violetta Il quadernino non è di violetta fortunatamente Così però Ma che c'è il signore che mi fissero Ma che c'è la piazza di sopra No mi devo fissare che cazzo vuol Ma che c'è la piazza di sopra Ma che c'è la piazza speciale Lui Per esempio questo Riempito di biancina Perché io e la mia amica Zenfira Che tra l'altro ho falluto Lo faccio Poi ho comprato queste 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 sono delle penne Che mi manca una Che era quella Rosso scuro Ma non la trovo più E non la devo comprare Guardate Sono non mi ricordo Questa è come i capelli eh Ma Sono appena svegliata La prima cosa che ho pensato A fare il video Ma non ho neanche fatto colazione In questo scemo Vai fuori a bascone Per favore Adesso vi faccio vedere un altro cane Che è sempre il mio Adesso vi faccio vedere Vabbè Raul Vieni qui Vieni È lui Raul vieni Raul Biscotto dai Vieni qua Vieni 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 Non so se si è visto Comunque un posto retterisco Infatti è nel giardino Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dove stai andando Dove stai andando Deve uscire o diventare Ecco Lei abita nel giardino Al piano Al piano di sotto Vediamo Vediamo da qui C'è scritto Guarda qui Mi devo fidare Io no Perché devo guardare per forza Ma si T'ho pazzoso Pazzoso Allora Questo video È il più lungo Del solito Non so perché Perché insieme a questo video Volevo fare anche la mia Morning routine Che avevo già fatto Però è vero com'era No Se un Se l'ho fatta Non mi ricordo Se l'ho caricata Ma comunque Mi ricordo Di averla fatta Tre volte Non so se L'ho caricata appunto Il nostro capello Comunque adesso farò La mia morning routine Mi sci sto facendo un video Che ti rendi conto Adesso faccio sentire la tua risposta a tutto il video Guarda Tra l'altro Mi ha risposto anche Questa qua Massaggio vocale Avete capito qualcosa? Io no Ah 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 Non ho parole Ma non hai parole Proprio per parlare Ciao Il castor K Il castor Il castor va a fare va a fare va a fare va a fare vai vabbè iniziamo con la memoria prima mi metto a guardare un po' il telefono guardo twitter instagram facebook ok e whatsapp e whatsapp non mori vini qua finito di guardare il telefono mi alzo la prima cosa che faccio è che prendo i miei vestiti visto che starò 4 ore mi taglio la parte ok ragazzi ho scelto quello che posso mettermi questo vestitino con dei sundering adesso ci farò guarda e e e Anzi, adesso mi so che metto dei leggins sotto perché mi arrivo fino a come, ecco. Ho scelto anche i leggins. Adesso me li metto. Salto, ci metto due secondi, non si vede sotto. Guarda, ragazzi, senza taglio, senza fottutissimo, senza un fottutissimo taglio, ho già finito. Devo mettermi. Adesso sono così. Ecco. Ma Pillo, tu non puoi uscire qua. Ti chiedo dai là. Io sto mettendo i sabbi. Ok. Adesso vado subito al bagno. No, ragazzi, prima applico questo rossetto qua, che sembra, aspetta, qua è oro, così, di questo colore, che amo di più. Questo colore è un viola acceso. Non è un viola come lo vedete qui, è acceso, guardate, come viene nella pelle. Vedete ragazzi, sulla pelle viene così. E quando si secca è ancora meglio, non è ancora più bello, quando si secca perché è bello, sì. Puoi, muoici. Adesso invece possiamo passare all'oppettinatura. Mi è venuto anche la fredda. In solito i miei capelli sono così. Oggi invece faccio il video proprio perché sono meglio dell'altra volta. Perché ieri sera li ho pettinati. Non volevo tornare così stamattina. Quindi li ho pettinati ieri sera. Ieri sera non volevo tenere anche l'attriccia. Meno oggi ho fatto la meglio figura degli altri giorni. Perché gli altri giorni i miei video li faccio l'attriccia. Oppure quando mi vesto sembra l'attriccia. Sembra che sono truccata, ma non sono truccata. Perché io non trucco. Cioè, metto un po' di rossetto sempre, ogni giorno. Sempre questo. Infatti è quasi finito. Poi ho anche un altro vestito, solo che è rosso. Non lo metto. È troppo da grande il rosso. Quindi non è una mia mamma carina. Lei me l'ha comprata. Questo me l'ha comprata lei. Pronto. Ma non mi sono così male perché la... Non mi va. C'è una cosa non mi parla, non mi piace. Molto. Eccomi ragazzi. Questa è stata la mia morning routine. Spero che vi sia piaciuta. Per favore mettete tanti like. Commentate e iscrivetevi. E condividetelo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.